Allora partiremo a mano libera o con un curvilineo e faremo il collo del davanti. La scolatura del davanti è sempre più profonda di quella dietro. Da A2, perché A1 ce l'abbiamo qui, misureremo A2, porteremo metà taglia più 2 cm. Questa è una taglia 48, stiamo trattando una taglia 48, pertanto da A ad A2 avremo metà taglia più 2 cm e pare a 26 cm. Questo è lo schema per la felpa, ricopriremo la manica e la manica davanti e la manica dietro saranno uguali come il davanti e il dietro, solo che il dietro invece di avere la scollatura profonda come il davanti, l'avrà o meno profonda. Adesso ci attacchiamo un pezzo di carta e andiamo a costruire su questo modellino anche il cappuccio. Sul collo basta un centimetro e anche sul giro manica, non occorre lasciare molta stoffa. Tenere sempre presente che se si decide di tenere in un verso, tutto quanto sarà in quel verso. Il fondo della felpa l'abbiamo deciso da questa parte e anche le maniche, il fondo sarà sempre nello stesso verso che abbiamo messo i corpi. Prima di iniziare ad assemblare i vari pezzi della nostra felpa tracceremo le basi per iniziare prima di tutto a confezionare la tasca. Con un paio di forbici molto puntite inizierò a tagliare in mezzo alle due cuciture, ma non inizierò dalla fine dove ho segnato i due puntini blu, ma da un paio di centimetri più su e mi fermerò a un paio di centimetri prima. Inizio a tagliare, ho finito di confezionare tutte e due le tasche, i due filetti, un relativo sacco tasca sia di destra che di sinistra. Andiamo a cucire i vari scalfi delle maniche. Prima di imbastire il corpo ho rifinito le cuciture degli scalfi. Si possono rifinire o con uno zigzag con sopragito o con la taglia a cuci per chi ce l'ha. Per quanto riguarda il cappuccio andiamo a vedere come comportarci. Ho tagliato una prima volta in stoffa doppia con lo stampo che abbiamo disegnato il cappuccio. Lo vado a tagliare una seconda volta perché farò il cappuccio doppio, in modo che quando il cappuccio è sulle spalle non si veda la stoffa bianca, ma si veda tutta quanta la fantasia e a fiori che abbiamo deciso di confezionare. Imbastisco la mia chiusura lampo in questo modo. Passo con l'ago e faccio una filzetta in modo da tenere ferma prima di affrontare la cucitura. Ho imbastito tutte e due le chiusure lampo, sia da una parte che dall'altra. Sostituisco il piedino per la cucitura normale e metto il piedino per le chiusure lampo, perché devo fare la cucitura il più vicino al bordo.